O San Giuseppe, padrono dolcissimo, pregate per noi, pregate per noi. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Rivenissimo Sacramento. Sia benedetta la Santa Purissima e Immacolata Concezione, la Beata Vergine Maria, Madre di Dio e Madre Nostra. Salvarci quest'anima nostra e così sia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buona appetita a tutti e buona continuazione della giornata. Dopo gli spaghetti cosa gusteremo? Il baccalà col cavolfiore, lo stesso con la mollica di pane, fatto sempre al forno questo qua e poi continuando ancora di più, ci stanno fagioli, lenticchie e poi i peperoni ripieni e dopo si passa al dolce. Praticamente il riso con latte e le mandorle sgusciate sempre in agrodolce queste qua. Poi siccome il mio onomastico hanno preparato pure la torta in fine, poi ci sta l'insalata di arance in ultimo, questa è proprio nella tradizione della festa. La torta è una cosa a parte, però l'insalata appartiene sempre sulla tavola di San Giuseppe. Dal dolce al salato, una ritualità che si perpetua di generazione in generazione e soprattutto è una festa che si trasmette per via matriarcale, da nonna a madre a figlia. E la famiglia, soprattutto sono le donne di casa, ad essere i motori di tutto questo grande evento. Oggi abbiamo visto sua moglie e sua figlia Antonietta all'opera. Ma non è solo oggi la festa di San Giuseppe perché si parte tanto tanto prima. Signora, da quanto tempo siete in azione? Sono quattro giorni oggi. Oggi è il quarto giorno, ma la preparazione anche dei calzoni... Allora, prezzo, passo poi. Perché trionfa la fede. I calzoni, l'agrodolce, il riso con il latte, insomma, sono tutte cose molto delicate che richiedono tanto tempo. Ci vuol tempo. Una festa antichissima, com'è cambiata nel tempo? Ma qualche... Non è che è cambiato di molto. Cioè, i piatti sono sempre gli stessi. Magari qualche cosa, come avevo detto prima, la torta prima si sognava questa cosa qua. Comunque, tutto sommato non cambia niente. Prima si faceva scambiando dei prodotti, magari chi ce ne aveva di più dava quello che aveva di meno. Dobbiamo andare avanti sempre come abbiamo iniziato, continuando sempre con questa devozione grande, con questo amore e passione di portarla avanti fino a quando c'è la possibilità e l'aiuto delle figlie, di tutti quanti, della famiglia praticamente. È bella, è bella portarla avanti perché ci vuole tanto amore per portarla avanti. E questo ci sta e ce lo mettiamo tutto per portarla sempre avanti nel tempo. Bene, allora grazie signor Giuseppe, grazie signora Maria. Il pranzo continua e voi, cari amici di Viaggi Molise e di Tele Molise, continuate a seguirci per continuare ad assaporare gusti e prodotti tipici di Riccia a San Giuseppe. E siamo giunti quasi alla fine del grande pranzo in onore di San Giuseppe qui a Riccia. Dulci si infundi, dolci non possono mancare. Fatti, ricordiamo e preparati con la devozione, pregando e onorando San Giuseppe. Antonietta, hai cucinato tutto, in grande grazie, tanto onore a te davvero, che con il tuo impegno, con la tua maestria, veramente ci hai deliziato. Lucia, la sorella. Ebbene, tra i tanti dolci, Lucia, cosa ci hai preparato? Niente, allora ci sono i calzoni e poi l'agrodolce e il riso con latte. Sono i tre dolci principali della tavola di San Giuseppe. Per quanto riguarda i calzoni, vengono fatte prima le linee, vengono chiamate nel nostro indialetto, in cui si prepara un imbasso di farina e acqua, con 5 kg di farina e 2 litri di acqua, un po' di sale e si preparano queste linee che vengono fatte con la sfogliatrice, vengono messe un po' di sugna e poi vengono arrotolate e poi vengono fatti i calzoni. Viene stesa questa pasta di queste linee e vengono fatti i calzoni con la pasta di ceci. Si fanno le forme e si mette la pasta di ceci e poi vengono fritti dell'olio di semi. E poi quando riguarda il riso, con latte, quindi si mette a bollere il latte e si mette il riso, si fa cuocere per due ore più o meno e viene fatto il riso. Poi c'è l'agrodolce con mandorle tostate e con vino, noi chiamiamo il vino cotto, il nostro indialetto, e lo zucchero e questo per quanto riguarda l'agrodolce. Questi sono i tre dolci principali della tavola di San Giuseppe e poi c'è chi vuole fare la torta e altre cose. Dolci importanti che richiedono tanto, tanto tempo. Antonietta, quanto tempo prima siete partiti nella preparazione ma anche proprio nell'organizzazione di tutto? Oggi è domenica, quindi da lunedì che abbiamo iniziato a preparare questa festa. Lui abbiamo fatto la sfoglia, ci siamo preparati, giovedì abbiamo cotto i ceci e venerdì abbiamo fatto tutte le fritture e sabato siamo proprio puliti e oggi abbiamo servito la tavola. Quanti chili di ceci avete lavorato? Cinque chili di ceci abbiamo fatto. Per un totale di quanti calzoni? Circa 200, più o meno. Anche perché i calzoni poi non si mangiano solo durante il pranzo ma per la devozione si distribuiscono anche. Sì, ai parenti, amici, altre persone che non fanno la festa. Questa è la prima cosa in San Giuseppe che è proprio la distribuzione dei calzoni alle persone. La tradizione vuole proprio che i calzoni devono essere distribuiti alle persone. Prima venivano distribuiti ai poveri, però oggi a tutti quanti, insomma, questa è la vera devozione. E poi si segue la festa. Una festa prima era per i poveri, si chiamavano proprio i poveri a fare questa festa, quindi a fare la Madonna, San Giuseppe, il Bambinello. erano i poveri che partecipavano a questa festa. Un impegno, una fatica, grazie Antonietta, grazie Lucia, buon San Giuseppe a tutti. Grazie a voi. Grazie. Vediamo, tua sorella Antonietta intenta preparare un cesto. Di cosa si tratta e soprattutto chi sono poi destinatari del cesto? Niente, questo è il cesto che si dona ai Sandi che hanno partecipato alla tavola di San Giuseppe, quindi alla Madonna, al Bambinello e a San Giuseppe e viene distribuito uno di questi cesti per ciascuno, dove c'è il pane, i calzoni, una mela, un'arancia e un biscotto. Appunto, come dicevo prima, che venivano distribuiti ai poveri, quindi questi santi devono essere poveri. E ancora c'è questa ricorrenza che dopo il pranzo che abbiamo fatto di San Giuseppe viene dato un cesto per ciascuno, per mangiare i giorni successivi. Antonietta, appunto, tranne la pasta che è comprata, tutto il resto è fatto in casa. Sì, sì, tutto il resto è fatto in casa. Abbiamo fatto da noi sia il pane che i biscotti e i calzoni. Tutto fatto da noi. Che tipo di biscotti sono? Biscotti con l'uovo. Praticamente vengono fatti in basso con l'uovo, dopodiché vengono cotti in acqua e poi messi al forno. Per Gilda, la prima volta a Ricci, in occasione della festa di San Giuseppe, sedi Ururi. Il San Giuseppe è qui, insomma, in basso Molise, molto particolare. Cosa ne pensi? È una bellissima festa e mi sono trovata molto bene qui. È una bellissima tavolata con tante pietanze che purtroppo da noi, ad Ururi, non c'è. C'è nella vicina San Martino che è leggermente diversa, che ci sono gli altarini, con la pasta con la mollica che si distribuisce, quartiere per quartiere, però è molto diversa da qui. Quest'anno per la prima volta a Tururi hanno fatto un unico altarino che purtroppo non ho potuto visitare perché sono qua. E viva San Giuseppe perché comunque accomuna tutti i popoli e tutti i paesi. Sì, sì, questo sì. È un santo molto particolare, è un protettore dei papà e è una bellissima festa. È di tutte le famiglie, come questa di oggi. Sì, sì, è una bellissima famiglia. Qui mi sono molto trovata bene perché è la famiglia del mio ragazzo. Sia lodato Gesù e Maria, sempre sia lodato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie, arrivederci all'anno prossimo e grazie a voi dello staff di Telemolisi. Vi ringrazio di questa cosa che ci avete portato nella nostra famiglia Moffa. Grazie a tutti. Un grazie a voi e bene, cari amici di Viaggi Molise e di Telemolise. Si conclude qui il Viaggi Molise di oggi. Vi ricordo che ci potete seguire sul canale 11 e 12 del Digitale Terrestre, sul canale 96 per l'Abruzzo, sull'880 e invece per gli amici che ci seguono da Roma Capitale e sul sito www.telemolise.com. Bene, da Riccia, da casa. Moffa vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo Viaggi Molise con noi. Grazie di averci seguito. Grazie a tutti.